Ben ritrovati al meteo. Ultimo giorno del mese di marzo con l'anticiclone ancora ben saldo sull'Italia, a garanzia di un bel tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un contesto decisamente asciutto e stabile con un ampio soleggiamento come vediamo un po' su tutti i settori della nostra regione e il cielo sarà sereno o velato. Locali foschie in pianura nelle ore più fredde. Temperature dal sapore tipicamente estivo, minime tra 5 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia con il sole che sarà assoluto protagonista e il cielo sarà sereno solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 19-23 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige dove non cambia lo scenario tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 7-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.